Oggi parleremo del tesoro più grande che abbiamo sulla terra, le nostre bambine e i nostri bambini. Vorrei iniziare con una delle più belle frasi sull'infanzia, l'ha detta una grandissima donna, una donna più apprezzata all'estero che non in Italia, Maria Montessori. Ha avuto quelle intuizioni che ci hanno permesso di capire chi è veramente un bambino, come se Maria Montessori si fosse messa all'altezza di un gatto per osservare dalla prospettiva del bambino come il bambino vede il mondo. Oggi cercheremo di comprendere quali sono almeno tre dei bisogni principali, cioè delle domande dei nostri bambini. Chi sono allora i bambini? Come direbbe Pier Paolo Gobbi, i bambini sono domande, domande che arrivano su questa terra. Chi sono i genitori, gli insegnanti, le nonne? Sono le risposte. Il primo grande bisogno di un bambino è il bisogno di sicurezza. Abraham Maslow ha affermato, soltanto un bambino che si sente sicuro osa crescere sanamente. Pensate, sano di mente. In effetti nessun bambino, nessuna bambina viene al mondo con una cosiddetta malattia mentale. Oggi tutte le ricerche dicono che la malattia mentale è il risultato di un'interazione. Qualcuno dice che ci potrebbe essere anche una componente genetica, ma in realtà è proprio un discorso di interazione con le persone che si prendono cura di noi. In effetti, se ci pensiamo bene per tutta la vita, noi abbiamo il desiderio di una protezione, di sentirci rassicurati, di sentire insomma qualcuno che ci accompagna nel viaggio della vita. Il secondo grande bisogno di ogni bambina e di ogni bambina è il bisogno di contenimento. Sentite che bella la frase di Winnicott. Ci sono madri che sanno tenere in braccio il loro bambino, mentre ci sono madri che non ne sono capaci. Tutte le mamme sono capaci di tenere in braccio un bambino ovviamente, ma per Winnicott tenere in braccio ha una funzione psichica, ovvero sia la capacità di contenere le pulsioni in primo luogo e poi le emozioni in secondo luogo e terzo luogo i bisogni del bambino. Tenere in braccio vuol dire rassicurare, vuol dire calmare, vuol dire comprendere, perché guardate che non c'è più bella sensazione che sentirsi compresi da un altro essere umano. È quello che viene chiamato il rapporto fusionale simbiotico. Senza la simbiosi non c'è relazione, perché un bambino e una bambina che non si sente contenuto tra le braccia delle mamma, ha la sensazione di sentirsi abbandonato, ha la sensazione di non esistere, ha la sensazione di trovarsi in un deserto e non trova nemmeno un miraggio che lo possa consolare. Vi rendete conto di quanto è importante questo concetto? È chiaro che una madre per contenere a sua volta dovrebbe essere in delle condizioni di serenità. Il padre, il compagno di vita, è fondamentale perché il padre è esattamente colui che prende tutte le ansie della madre e le dice Sta tranquilla, non sei da solo in questo viaggio e sei sicuramente una brava madre. Il terzo grande bisogno di una bambina e di un bambino è quello di affetto, di appartenenza. Ecco perché la famiglia riveste un ruolo fondamentale. Tutti i genitori amano i loro figli e le loro figlie, ma siamo capaci di far sentire questo amore. Pensate, mio padre, da buon friulano, non era stato educato alla cosiddetta affettività del corpo. Conseguentemente non vi era un contatto. Ricordo ancora un abbraccio che mi ha dato, io avrò avuto 16 anni. Avevo appena finito di guardare Happy Days, ve lo ricordate? Così capite quanti anni ha il vostro coach. In quel momento, in quell'abbraccio, io ho proprio sentito un calore. Ho proprio sentito invadermi letteralmente. Ma lo ricordo benissimo, come se fosse ieri. Avete presente quelle esperienze che sono talmente impresse nel nostro sistema limbico, nel cervello delle emozioni, che ti rimangono per tutta la vita? Proprio così. Far sentire il nostro amore. Non solo dirglielo, ma proprio farglielo percepire. E qual è il modo migliore per trasmettere questo grande bisogno degli esseri umani, e soprattutto dei bambini e delle bambine? La presenza. Non c'è messaggio più importante che essere presenti al loro presente. Spesso e volentieri le mamme sono di corsa, vanno a prendere i bambini alla scuola materna, poi devono fare la spesa, poi devono stirare, e poi devono, 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 devono. E tutto questo, ovviamente, mette una madre nelle condizioni di avere mille pensieri. Beh, dovremmo essere un po' a cuna matata, cioè dovremmo un po' essere senza pensieri quando stiamo con i nostri bambini, con i nostri bambini. Perché il fatto di goderci la loro presenza fa sentire loro quanto li amiamo e quanto sono desiderati. Vorrei concludere ricordando che l'educazione è la cinga di trasmissione della nostra umanità. Senza educazione nessuno di noi diventa veramente un uomo, diventa veramente una donna. Ed è proprio per questo che c'è bisogno di tutti. C'è bisogno delle scuole, c'è bisogno degli insegnanti, c'è bisogno dei nonni, c'è bisogno delle catechiste, dei catechisti, degli allenatori, degli associazioni culturali. Insomma, l'educazione è come far crescere una foresta. E come dice un bellissimo proverbio africano, ricordiamoci che le mani che piantano non muoiono mai. Continuiamo a piantare perché è di questo che i nostri bambini e le nostre bambine hanno davvero bisogno. La nostra presenza.